Sono Roberto, sono panificatore nella provincia di Varese da ormai 24 anni. Ho iniziato all'età giovanissimo, avevo 16 anni e finito la scuola di formazione professionale. Sono entrato nell'attività di famiglia che è iniziata nel 61 sulla volontà di mio nonno materno. Sono la terza generazione e stiamo continuando questo bel lavoro, perché comunque è impegnativo ma regala molta soddisfazione. Quando la gente è contenta, torna, porta altra gente perché trova un prodotto eccellente, è gratificante. Noi puntiamo tantissimo sulla qualità, le materie prime sono fondamentali, selezioniamo i fornitori dai grani a tutti gli altri ingredienti. Sulla panificazione noi siamo sempre alla ricerca di elevare la nostra qualità, soprattutto nel campo della lievitazione, cercando lievitazioni particolari, lente, lunghe, che così danno sempre un prodotto eccezionale, dal gusto e dal profumo inconfondibili. E sono anche quelle che caratterizzano i nostri prodotti, perché poi la gente lo riconosce. Comunque chiedono un impegno perché sono tante ore di lavoro, però sono sempre quelle che poi alla lunga danno un risultato ottimale. Noi cerchiamo sempre di partire da un prodotto che si avvicina di più a quello che è un pane molto arricchito, molto condito, che richiama proprio la tradizione del vecchio panettone, diciamo. Ci avviciniamo così anche con dei prodotti con frutta secca, con farine semi integrali, più saporite, più nutrienti, che fanno anche, vogliamo dire, un po' più bene di altri prodotti che magari danno solo gusto e basta. Ricerchiamo sempre prodotti, se sono prodotti italiani di alta qualità è ancora meglio, altrimenti comunque rincorriamo l'alta qualità in ogni caso, anche magari andando a prendere prodotti più vicini all'Italia, che però ci diano un prodotto di alta qualità, perché quello è importante. Grazie per la visione!